Buonasera da Tutto Mercato Web, è quasi tutto pronto per una nuova puntata in cui parleremo di campionato con i big match tra Juventus e Fiorentina e Napoli-Roma parleremo anche del mercato perché comunque inizia ad essere caldo il fronte delle trattative Tommaso Bonanna, mentre tutta la relazione è al lavoro, dicevo delle grandi sfide in campo ma anche sul mercato Esattamente, prendiamo ad esempio la gara, il big match di domenica sera proprio tra Juventus e Fiorentina due squadre che si sfideranno sul terreno di gioco del Juventus Stadium ma anche sul mercato perché ci sono molti giocatori che interessano entrambe le squadre ad esempio Sensi, il giovane gioiello del Cesena che può interessare per gennaio fino a Saponara per quello che riguarda l'estate quindi è una giornata di campionato molto interessante che si proietta sul mercato, anche la Roma di scena in campo contro il Napoli alle prese con il caso Ashley Cole, invece nel Napoli con le riserve che non giocano in primis quella di Mertens quindi sempre grandi nomi in primo piano per quello che riguarda il mercato in una giornata condita da grandissime sfide tutto quello che riguarda la testa della classifica I nostri ospiti in studio ci stanno aspettando, dunque li raggiungiamo tra pochissimo adesso la sigla e poi apriamo la trasmissione di nuovo buonasera a tutti, come dicevamo in precedenza ci concentreremo sui big match di domani Juventus-Fiorentina e Napoli-Roma ma parleremo anche di mercato, in particolare del caso Buonaventura saluto subito gli ospiti naturalmente, Giocondo Martorelli, agente FIFA, ciao benvenuto ciao Lorenzo, saluto a tutti, buonasera Luca Calamai, Gazzetta dello Sport ciao, buonasera a tutti e poi un saluto anche a Carletto, speaker di RTL 125, sempre frizzante ciao Lorenzo e buonasera a tutti allora partiamo da Juventus-Fiorentina Giocondo, chi rischia di più tra i bianconeri e i viola che sono in un periodo ottimo di forma la Juventus riduce da 5 vittorie consecutive in campionato la Fiorentina che è al secondo posto, una Fiorentina che è riduce dalla vittoria contro l'Udinese sta bene, informa, chi rischia di più? mi verrebbe da dire che rischia di più la Juve perché questo periodo di positività che sta mantenendo la squadra di Allegri se non dà continuità a un risultato positivo probabilmente può dare un segnale molto negativo sotto l'aspetto soprattutto mentale mentre la Fiorentina io penso a prescindere da qualsiasi risultato è normale, l'auspicio è quello che possa essere un risultato positivo però a Torino ci può stare tutto e nella peggiore delle ipotesi rimane sempre un campionato dove può dire la sua fino all'ultimo diciamo che da questo punto di vista, ripeto, la squadra che ha quasi molto da perdere è la Juve perché il processo di crescita si verrebbe ad interrompere e di conseguenza anche ogni passo falso farebbe sì che la squadra a questo punto pensare poi di arrivare ai vertici del primo posto così diventa molto molto difficile la partita sicuramente sarà spettacolare, molto bella perché oggi come oggi la Fiorentina è insieme al Napoli la squadra che gioca il miglior calcio e mi aspetto anche una gran bella partita ecco interessante sempre a proposito dello spettacolo la sfida Luca tra Bernardeschi e Pogba i due numeri dieci delle due squadre sì anche se stiamo parlando di ruoli diversi, di situazioni diverse però insomma i due giovani che rappresentano i gioielli delle squadre ma io ho fatto ieri scherzando una battuta c'è talmente tanto Bernardeschi su Firenze che ho detto probabilmente lui sarebbe in grado di risolvere anche i problemi del traffico, gli verrebbe chiesto di risolvere anche i problemi cioè oggi Bernardeschi dice chi è il giocatore? Bernardeschi chi è quello che può essere? Bernardeschi non credo sinceramente che Bernardeschi domani sia la pedina chiave al 100% anche perché riagganciandomi alla domanda che facevi prima all'amico Giocondo sicuramente secondo me rischia di più la Juve ma la Juve sta anche meglio in questo momento per cui la Fiorentina vive un momento un po' di direi quasi normale fisiologica flessione e anche Bernardeschi a cui è stato chiesto una trasformazione importante e anche un sacrificio fisico sicuramente superiore non è più il Bernardeschi di 20 giorni fa quindi nemmeno Pogba io lo vedo come un giocatore determinante sono i due giocatori di quelli che vanno sui titoli dei giornali perché fanno rock in questo momento, fanno tendenza però io penso che i giocatori decisivi saranno altri Allora mi rivolgo a Carletto da simpatizzante della Fiorentina naturalmente questo non lo puoi nascondere No, 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 proprio tifoso non simpatizzante Interessante nel gioco delle sfide nella sfida anche quella tra Kalinic e Mandzukic Sì, che tra l'altro loro sono anche in competizione nelle loro nazionali ma io, vabbè, chiaramente a parte sono di parte ma anche per quello che ha fatto vedere fino adesso Kalinic è una spanna superiore a Mandzukic Per Mandzukic parla il passato Bayern Monaco, Atletico Madrid insomma comunque ha dei bei numeri ha fatto delle belle cose non so se magari il gioco di Allegri non lo sta valorizzando moltissimo o forse è il gioco di Paolo Sosa che sta facendo, diciamo, esplodere Kalinic però Kalinic tutta la vita Da speaker che musica dedicheresti a Kalinic? Ma io gli metterei qualcosa di forte di un Eye of the Tiger per dire un Rocky Balboa una roba proprio, capito, decisa Grintosa Sì, 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 assolutamente Il punto sul mercato adesso per quel che riguarda la Juventus e la Fiorentina con Niccolò Ceccarini di Premium Sport Per quanto riguarda il mercato della Juventus in entrata si continua a lavorare sulla pista Lavezzi anche se il problema principale è quello dell'ingaggio perché Lavezzi guadagna tanti soldi al Paris Saint Germain mentre per quanto riguarda il mercato in uscita è da visionare meglio la posizione relativa a Rugani perché comunque potrebbe andare via in prestito come potrebbe anche rimanere dipende adesso dallo spazio che gli darà Allegri e da sistemare c'è anche la vicenda relativa a Neto Neto non sta giocando non è felicissimo e quindi potrebbe partire però prima la Juventus deve cautelarsi avendo un altro portiere di riserva Sul mercato della Fiorentina ormai è tutto chiaro la Fiorentina prenderà un difensore centrale in pole position c'è Lisandro Lopez del Benfica appena il Benfica prenderà un altro difensore e darà il via libera all'operazione un'operazione che si può fare con il prestito oneroso con diritto di riscatto e poi c'è anche la situazione di Suarez da monitorare insomma abbiamo visto poco spazio per il centrocampista spagnolo e soprattutto l'alternativa a Blasikowski la Fiorentina per adesso è molto brava a coprire quelle che sono le sue mosse Per quanto riguarda il mercato della Juventus i bianconeri guardano anche alla prossima estate Berardi potrebbe vestirsi di bianconero Berardi è giocatore da tempo nell'orbita della Juventus con Zazza che potrebbe tornare al Sassuolo che cosa pensi di quest'operazione? Sai Berardi è un personaggio imprevedibile innanzitutto bisogna vedere se lui sarebbe contento di andare alla Juventus perché mi risulta che la prima estate scorsa è stato lui a chiedere di restare a Sassuolo lui vive in questo suo mondo molto particolare e quindi certo se lui però pensa di andare alla Juventus e pensa che la Juve gli dia delle garanzie sul fatto di giocare o meno secondo me la Juve non le può dare ma non le dà a nessun grande campione nemmeno a un grande talento come Berardi io credo che da questo mercato nasce da questo inizio di stagione nasce chiara lì la sensazione che la Juventus debba andarsi sicuramente a rinforzare al centro campo perché insomma mi pare che Chedira conferma di avere delle problematiche fisiche e poi non può chiedere a Bonucci Chiellini e Barzagli di giocare fino a 70 anni mi pare che c'è questo mistero rugano che dovrà essere chiarito in qualche modo ma sono più questi reparti su cui la Juve deve lavorare se non in attacco dove per esempio io trovo incomprensibile l'opzione Lavezzi per quel che riguarda invece la Fiorentina dicevamo con Nicolò Ciccarini di Lisandro Lopez dovrebbe arrivare alla Fiorentina si era creato un po' di allarme all'interno del club viola visto che si era infortunato Luisao e quindi probabilmente il Benfica doveva trovare un'alternativa però alla fine questa operazione andrà in porto secondo te? ma sicuramente è un obiettivo che la Fiorentina sta cercando in tutti i modi di portare a compimento di portare a casa e io glielo auguro almeno lo dico da più tempo la Fiorentina ha bisogno ha necessità assoluta di portare a casa non soltanto un difensore centrale ma anche un esterno perché partecipare a tre competizioni ed essere protagonista con questa rosa attuale secondo me è difficile andare avanti con questo organico perché ripeto le energie nervose e fisiche sono tante e vediamo anche nelle ultime partite che qualche sofferenza da parte della Fiorentina c'è stata abbiamo l'ultima trasferta che la Sassuolo se non sbaglio giusto? per cui effettivamente Sosa sta tirando fino all'ultimo fino a Natale per trovare i più punti possibili il meglio da questa squadra per cui Luisao sta riprendendo la condizione poi per quanto ne so stanno cercando appunto anche un altro centrale questo potrebbe essere Ranocchia se dovessero andare in porto queste due cose le probabilità che Lisandro Lovance possa arrivare a Firenze sono molte cioè si stanno creando gli incastri giusti se si verifica tutto questo se Ranocchia addirittura va verso il porto verso Benfica penso che sia una cosa fattibile tra l'altro credo che lo stesso fatto che il direttore sportivo del Benfica sia Manuel Rui Costa l'amicizia che lo lega a Paolo Sosa oltre che alla Fiorentina credo sia a prova di bomba e poi insomma le vie del mercato sono abbastanza chiare cioè Lisandro Lopez è un giocatore non è un fenomeno ma è un giocatore importante il fatto che su di lui sia sceso il silenzio dal preciso momento in cui la stessa Fiorentina ha ammesso che c'era una trattativa in corso secondo me testimonia che tutte le pedine sono a posto c'è solo da aspettare gennaio ma vuol dire che sia il procuratore di Lisandro Lopez che di Lisandro Lopez che tutti aspettano solo i tempi tecnici per l'operazione ma il mercato della Fiorentina non si deve fermare all'opera eh no assolutamente perché la Fiorentina deve fare un mercato molto ricco anche numericamente perché quello che diceva Giocondo è una verità assoluta cioè la Fiorentina oggi ha alcuni ha una rosa stretta perché alcuni giocatori sono fuori da questa rosa lo sono ovviamente non da un punto di vista tecnico ma da un punto di vista oggettivo Suarez è un giocatore bocciato chiaramente e quindi lì deve intervenire in maniera importante e credo che dovranno farsi chiarezza anche sulla posizione di Pasquale perché questo degradamento di Pasquale è estremamente sgradevole nemmeno vicecapitano esatto può anche pensare e portare al fatto che Pasquale ricordiamo la giugno scadenza potrebbe anticipare la sua partenza chiuso se ti interrompo anche c'è la vicenda all'onso che anche è da verificarsi se questo rinnovo dalla società fanno sapere che questo rinnovo è vicinissimo però poi non è ancora arrivata la firma questo sicuramente può creare qualche piccolo dissapore poi all'interno di un gruppo dello spogliatore poi la tranquillità del giocatore tante cose spero che questo avvenga prima possibile Carletto su Lisandro Lopez ti convince un nome che in qualche modo ti riscalda il cuore o no? non lo conosco quindi non conoscendolo non è da però speriamo non succeda come con Luisao che dovevamo prenderlo sembrava lì da venire alla Fiorentina e poi invece saltò anche lì all'ultimo momento speriamo di no per il resto Alonso io spero non faccia come ha sempre fatto il padre lo segue comunque lo porta sempre a scadenza speriamo non si verifichi queste eventualità tornando alla Juventus invece parliamo anche del rinnovo di Morata è arrivato il prolungamento del contratto di questo giocatore sentiamo adesso il parere su questo punto il parere di Carlo Palavicino agente FIFA la Juve comunque è lenta e costante crescita è una squadra è una società che danno l'impressione di avere idee sempre molto chiare e lo dimostra anche il rinnovo di Morata che è arrivato in un momento non felice per il giocatore spagnolo ma che proprio per questo motivo ha un valore duplice e questo mi fa riflettere sul fatto che spesso i calciatori se davvero ci si crede si devono mettere sotto contratto prolungare proprio nei momenti di maggior difficoltà perché questo crea innanzitutto un vantaggio economico e anche una fidelizzazione maggiore da parte del calciatore che riconoscente in questo caso saprà ricordarsi al momento opportuno del club che lo ha aiutato in un momento di difficoltà apriamo adesso il capitolo dedicato al Milan in particolare a Giacomo Bonaventura si è parlato molto in queste settimane della decisione del calciatore di abbandonare il suo procuratore storico Giacomo Martorelli che è qui nei nostri studi qui accanto a me c'è chi ha ipotizzato che dietro questa decisione ci sia il Milan che comunque questa scelta sia stata dettata dal Milan in modo tale che potesse prendere un procuratore amico tra virgolette il giocatore ha smentito adesso sentiamo la versione la posizione di Giacomo Martorelli nel frattempo però Giacomo ti volevo anche leggere uno stralcio dell'editoriale di quest'oggi su tuttomercatoweb.com di Mauro Suma che tra le altre cose scrive anche Jack fin dai primi mesi al Milan nel 2014 non diceva niente per rispetto ma non gradiva il troppo spazio riservato al suo procuratore piuttosto che a lui stesso rimane attonito Jack quando riceve voci di altri procuratori che magari ricevono altre telefonate per non prendere la sua procura e poi anche a proposito del fatto che Galliani sia sparito al momento della discussione del prolungamento del contratto scrive Mauro Suma forse perché magari non voleva più sentirsi chiedere al telefono di intervenire sul ragazzo per convincerlo a non cambiare il procuratore rapporti nei quali un dirigente esperto non entra mai allora in generale sulla vicenda e anche poi naturalmente sulle parole su quello che ha scritto ti rispondo non gli rispondo nemmeno penso che dice delle cose inesatte per cui voglio dire non voglio entrare nella polemica stupida non è nel mio stile non l'ho mai fatto in 30 anni di carriera sono tutte cose che non conosci rapporti tra me Giacomo dice delle inesattezze incredibili perché io fino a un mese fa con Giacomo i rapporti erano strettissimi eravamo a cena importante di beneficenza insieme abbiamo fatto 10 anni di rapporto splendido per cui tutto è venuto in una sera non c'era niente che faceva presagire a questo per cui mi rifiuto di rispondere a chi non conosce le persone non conosce i fatti e tantomeno non intendo proprio continuare su questo anche a proposito del troppo spazio riservato al suo procuratore e non non penso di aver partecipato mai a Sanremo o altre cose dove ci sono manifestazioni tali da poter andare grazie a Dio nella mia vita ho rappresentato un giocatore come Beppe Bergamo con tutto il rispetto di Buonaventura di Beppe Bergamo voglio dire gloria e notorietà ne ho avuto abbastanza nella mia soddisfazione professionale la gente mi rispetta per quello che sono e non sicuramente per un anno al Milano di Giacomo Buonaventura comunque ripeto sono stato fiero orgoglioso di rappresentarlo per dieci anni tutto il resto non è vero l'unica cosa che mi sento di dire poi il resto saranno chi ci ascolta dare giudizi su questa vicenda una vicenda antipatica una vicenda che non avrei mai voluto commentare quello che ho detto già più volte anche nei microfoni di Sport Italia e ribadisco ancora oggi io non alludo a niente di quello che ci può essere dietro la sua scelta io ho esposto solo come sono andati i fatti i fatti lo ripeto per l'anese sono in questo modo i rapporti tra me e Giacomo erano ottimi fino a 30 giorni fa fantastici non c'era niente che faceva presagire ad un cambio assolutamente lui aveva fatto un contratto di 5 anni al Milan con l'accordo con il dottor Gagliani che se il calciatore avesse fatto bene ed era un giocatore da Milan cosa che avviene da 30 anni al Milan il dottor Gagliani mi ha ripetuto più volte anche in presenza di Giacomo addirittura questo è un vanto per la famiglia Milan che a KK in un anno l'hanno fatto 3 aumenti di contratto per dimostrare che quando uno merita è giusto gratificarlo e io non ho avuto mai dubbi su questo tant'è vero nelle 3 volte che ho incontrato il dottor Gagliani il dottor Gagliani non mi ha mai detto che non era vero o che quello che avremmo preteso era un'assurdità ha sempre detto hai ragione ti chiamerò aspetta un attimino la squadra non stava andando bene è un momento decisivo poi passato un anno è passato un anno un anno cosa che non è mai successo nella storia del Milan che per un anno non si riceve un procuratore per parlare del rinnovo di contratto del miglior giocatore del Milan questo è l'aspetto più importante guarda caso un ragazzino di 16 anni Donna Rumma dopo 3 partite si porta si dice almeno che si vuole portare da 160 mila euro a un milione di euro poi non lo so se è stato fatto o meno però in ogni caso è stato preso in considerazione questo tipo di aspetto allora è normale che io lancio questo tipo di messaggio a chi ci ascolta questo è un sistema che va quantomeno sconfitto tentare di sconfiggere non esiste che oggi come oggi ci siano ancora situazioni di questo sentiamo anche Luca Calamai che riflessioni fa dall'alto della tua esperienza insomma ne hai visti tanti di casi scottanti anche di giocatori che comunque hanno deciso di cambiare all'improvviso procuratore di affidarsi ad altri agenti nel caso specifico che cosa ti senti di dire innanzitutto credo che sarebbe stato opportuno che Buonaventura avesse detto qualcosa in questo periodo proprio per per chiarezza per spiegare per impedire che altre persone qui ci sono i protagonisti sono due i protagonisti sono due sono il giocatore e il giocondo e quindi io credo che io penso che il giocatore avrebbe dovuto proprio spiegare bene le cose per impedire ripeto per impedire ad altri di interpretare i concetti e di alimentare la confusione non è il primo caso di queste vicende capisco e comprendo totalmente l'amarezza di un professionista che ha trasformato un ragazzo in un giocatore di grande successo e che ha dato anche una ricchezza oggettiva non solo a un punto di vista tecnico e professionale vorrei augurarmi che di non vederne in futuro altri casi così ma sono sicuro che avverranno altri casi devo dire che senza entrare proprio nello specifico perché ripeto solo Giocondo e Buonaventura posso raccontare devo dire che l'ultimo anno del Milan tra campagne acquisti secondo me estremamente discutibili scelte di mercato investimenti di mercato anche quelli abbastanza discutibili allenatori non a caso ne pagano per il momento tre ecco ti danno la sensazione di un pianeta Milan che vive un momento di difficoltà ecco per cui quando sento parlare di stile di un modo di vivere il Milan in determinate situazioni non mi sorprende perché vedo un momento di confusione generale probabilmente all'interno di questa confusione può darsi che ci sia entrata anche questa vicenda Carletto tu hai avuto modo di conoscere Buonaventura non ti aspettavi questo dietro fronte naturalmente guardando la vicenda dall'esterno no stavo dicendo proprio a Giocondo l'ho conosciuto in occasione di una serata insieme anche a Guido Marilungo quando giocavano tutti nell'Atalanta standardo eccetera eccetera mi fece anche tenerezza perché era ma penso sia ancora un ragazzino comunque acerbo sotto tanti tanti aspetti e mi disse io suono la chitarra perché ci presentò Guido no mi dispiace mi dispiace perché conosco Giocondo so che persone è Giocondo e non credo meriti anche lui un trattamento di questo tipo qua però io prima dicevo una cosa è una citazione di Bosco quindi non è farina del mio sacco però a volte è proprio il caso di dire testa di giocatore buona solo per portare cappello quando si arriva a fare queste cose perché poi alla fine la colpa no ma posso aggiungere una cosa perché bisogna ribadirla fino all'infinito perché molte volte o si fa finta di non capire oppure c'è qualcosa veramente di molto strano quando a proposito dell'ichiarazione diceva Luca di Buonaventura probabilmente lui ha detto che proprio attraverso i microfoni di Milan Channel lui ha tutto il diritto di cambiare ma io lo sostengo io non sto mica dicendo che lui non ha diritto di cambiare ma ci mancherebbe altro io lo sto dicendo ad alta voce è quello che si è verificato nell'anno il sistema il sistema cioè lui ha maturato lui ha maturato questi miglioramenti di contratto nel periodo in cui era con me poi se lui da domani da un mese a questa parte fino a quanto sarà diventerà un giocatore da Real Madrid che va a guadagnare 8 milioni all'anno diventa il capitano della nazionale italiana benvenga per lui per il suo nuovo procuratore e tutto quello che ha maturato fino ad oggi era qualcosa che spetta a me assolutamente questo è il concetto io penso che se non si vuole capire questo non si vuole capire la realtà tutto lì dobbiamo cambiare l'argomento adesso e dobbiamo parlare di Napoli-Roma torniamo sul campionato Luca un'altra sfida delicatissima tra due squadre che vogliono rilanciarsi in particolare la Roma probabilmente è proprio per i giallorossi che questa sfida scotta di più ma sono d'accordo fino a un certo punto il Napoli ha perso a Bologna l'ultima partita però insomma è vero che la Roma si è qualificata agli ottavi di Champions però è stata accompagnata dai fischi generali del suo pubblico faccio per dire sono due squadre che attraversano che arrivano a una partita speciale in un momento particolare è chiaro che la Roma stavamo parlando parlavo prima di confusione ecco la Roma anche io è un'altra società nel cui regna la confusione totale perché un allenatore contenuto ma probabilmente solo perché aveva un ingaggio talmente alto da non poterlo sostenere così da non poterlo regalare una squadra che ha bisogno di un difensore però poi vende Romagnoli uno dei progetti più interessanti dei giovani e compra magari i giovani giocatori di maggior nome perché serve il nome una piazza in rivolta un presidente che arriva e attacca la piazza forse senza conoscere poi tutte le realtà al certo per certo insomma una situazione di grande confusione Napoli è oggettivamente come diceva Giocondo la squadra che insieme alla Fiorentina gioca al calcio migliore c'è un allenatore che allena e devo dire immagino per il Napoli tutto questo sia sorprendente dopo anni di Benitez che gestiva ha forse anzi sicuramente il giocatore più forte del momento che è Higuain il problema di questo campionato è che come basta guardare le classifiche c'è queste retrazioni quasi domenicali quasi settimanali in testa della classifica questo è un campionato che non ha una squadra in assoluto più forte lo vincerà la squadra che saprà trovare il migliore equilibrio tra valore dei giocatori situazioni ambientali magari scelte del mercato invernale azzeccate cioè chi riuscirà a mettere insieme tante piccole cose che poi sono quelle che ti regalano ti danno la possibilità di vincere lo scudetto perché nessuna di queste può vincere lo scudetto in 10, 12 punti o 17 manteniamo fatti la Juventus a proposito del mercato andiamo in redazione ci colleghiamo con la nostra redazione in particolare con Luca Bargellini perché parliamo del mercato della Roma è spuntato di nuovo per i giallorossi il nome di Rabiot grazie Lorenzo dalla redazione di tutto mercato web siamo qui per parlare di mercato il centrocampista del Paris Saint Germain ve lo ricorderete sicuramente il giovane francese è stato accostato anche nelle scorse sessioni di mercato alla Juventus in questo caso è la Roma ad interessarsi in maniera forte si parla di un'operazione magari con la formula da valutare con la formula del prestito per i prossimi sei mesi con un eventuale riscatto ma siamo veramente agli albori di questa che potrebbe essere una delle trattative più interessanti per la finestra di mercato di gennaio Rabiot che ovviamente non piace solo alla Roma rimanendo sempre nei confini della Serie A c'è anche l'Inter che sta monitorando la situazione per uno dei talenti più interessanti del panorama francese un giocatore che piace non solo in Italia piace anche in Premier League e sicuramente sarà uno dei nomi più gettonati per quanto riguarda la finestra invernale di calciomercato grazie a Luca Bargellini in 20 secondi Giocondo visto che stiamo proprio in chiusura di trasmissione potrebbe essere davvero un giocatore utile Rabiot alla Roma oppure no? Si parla di un giocatore interessantissimo un talento del calcio sicuramente però penso che la Roma avrebbe bisogno di ben altro e sotto gli occhi di tutto che manca un difensore centrale a sinistra hanno solo Digne che oramai non ne può più a destra devono adattare Florenzi che non è un esterno basso per cui la Roma dovrebbe intervenire sicuramente in altri ruoli grazie a Giocondo Martorelli per la sua partecipazione grazie a voi grazie a Luca Calamai Gazzetta dello Sport e grazie mille anche a Carletto alla prossima naturalmente grazie a tutti voi per averci seguito e buon proseguimento di serata